«Sei ancora vivo? Sono felice, ora ho dei nipotini!» disse mio padre, ridendo grossolanamente mentre guardava mia madre. Dopo averci abbandonato, aveva sposato la sua amante. Avevano un figlio e da poco anche un nipotino. Presentò con orgoglio la sua famiglia.Poi iniziò a vantarsi di quanto fosse bella la sua vita da quando aveva lasciato la mamma. «Che vita miserabile!» disse con il suo solito tono beffardo. «È passato un po' di tempo», dissi, guardandolo fisso. Lui sembrò sorpreso. «Anna, sei tu? È bello vedervi tutti e due nei bassi fondi di questa topaia. Devi aver accumulato debiti per le spese mediche, eh? È dura ripagare tutto. Mio padre, ubriaco, continuava a far neticare con le sue assurde supposizioni.Quando stavo per reagire, mia madre mi fermò con calma. Anna, no. Ricordati che è ancora un ospite. Che cosa state bisbigliando laggiù?» Papà si mise a schernire, ma la mamma si limitò a guardare in avanti, incrollabile punto e annunciata. «Vi presenterò la nostra azienda e la nostra famiglia di 17 anni». «Cosa?» disse papà, stupefatto. Poi la mamma ha raccontato fatti che lo hanno lasciato senza parole. Mi chiamo Hannah Smith. Ho compiuto da poco venti anni punto. La maggior parte dei miei coetanei sono ancora studenti, ma io ho già lavorato. Ogni giorno mi alzo alle cinque del mattino per andare al lavoro. Lavoro in una locanda. Si chiama Petita Bergs. Molto frequentata, soprattutto ora, durante l'alta stagione. Dopo aver fatto il turno di notte, inizio subito le mie mansioni mattutine. Presto arriva mia madre, Clay. Come va oggi? Occupata, ma me la cavo. Le rispondo con un sorriso. Anche mamma lavora qui. Evita di fare orari lunghi a causa di una grave malattia passata. Lavorare qui con lei, aiutarla, mi rende più felice. Quando si avvicina a mezzogiorno, altri ospiti si presentano. Ho preso posto alla reception. Mi occupo di una famiglia dopo l'altra. Quella famiglia sembra così unita. Guardandoli. Sento una fitta al cuore punto io non ho un padre. I miei genitori hanno divorziato quando ero solo un bambino. Ricordo a malapena mio padre. Ma so di lui dalle storie che mi hanno raccontato mia madre e i miei nonni. Era un uomo terribile. E quello che ha fatto alla nostra famiglia è imperdonabile punto è successo quando ero piccola. Vivevo con mio padre e la mia fragile mamma. La salute della mamma non era buona fin dalla mia nascita. E passava molto tempo costretta a letto. Mi dispiace. Anna. Non posso essere la mamma che vorrei essere. Lo ricordo chiaramente punto le sue condizioni peggiorarono nel tempo. All'epoca era una malattia incurabile, con una prognosi in fausta. Quando compì i tre anni le fu data la diagnosi terminale. Non ci si può fare niente, si conosce meglio il proprio corpo. Mamma, ex infermiera punto sembrava preparata al peggio, avendo visto altre persone affette dalla stessa malattia punto mio padre, invece, la semplicemente abbandonata punto si scoprì che aveva un amante punto mamma non ne parlava molto, ma i miei nonni mi hanno informato punto papà iniziò a frequentare la città di notte. Per spugare il suo stress, e trovò una donna preferita in un bar punto lasciò la mamma per lei punto il divorzio fu risolto in sordina. Senza che io lo sapessi punto il giorno in cui papà lasciò la nostra casa, mi. Aggrappai a lui, senza volerlo lasciare andare punto forse avevo percepito qualcosa, anche da bambina punto ma lui si allontanò bruscamente, urlando, sei d'intralcio punto scoppiai a piangere punto Anna, non sono più tuo padre. Raggomitolati in questa casa deprimente con lei punto disse un unghigno, è terribile. Come hai potuto dire una cosa del genere ad Anna? La mamma mi abbracciò, proteggendomi punto poi papà, con uno sguardo diabolico, sputò fuori punto sono stanco di prendermi cura di te. Voglio essere libero. Non prenderla male. Se devi incolpare qualcuno, incolpa la tua malattia punto senza voltarsi, usci rapidamente di casa punto la mamma mi teneva stretta, immobile punto piangevamo in silenzio punto è una storia terribile punto ora. Sicuramente, sputerei in faccia a mio padre punto ma allora, avendo solo tre anni, cosa potevo fare? Io e mia madre non sapevamo cosa fare punto alla fine ci trasferimmo dai genitori di mia madre punto era difficile per me e la mia mamma malata, che aveva poco più di tre anni, cavarcela da sole punto per fortuna. I miei nonni si occuparono di mia madre e di me punto gliene sarò sempre grata punto ma le condizioni della mamma non cambiavano punto l'unica speranza di guarigione era il trattamento più recente punto ma era costoso punto i miei nonni, che vivevano con la loro pensione, non potevano permetterselo punto se solo avessimo dei risparmi. Non ne avete? Ci sono dei risparmi di famiglia, ma sono per l'istruzione di Anna punto questa conversazione si ripeteva spesso punto in un certo senso capivo che la mamma non voleva usare i soldi per sé. Pensando a me punto alla fine non riusci più a trattenermi punto mamma, sto bene. Usali per le tue cure. Quando sarò grande, mi prenderò cura di me stessa. Più di ogni altra cosa, voglio che tu guarisca. Dissi piangendo punto all'inizio la mamma si rifiutò, ma dopo averla molto persuasa da me e dai miei nonni, accettò di usare i risparmi punto la scuola non aveva importanza. Finché la mamma stava meglio, era sufficiente. Per i soldi ci pensiamo noi. Credo di aver detto qualcosa del genere punto così mia nonna andò a prelevare il denaro dal conto di famiglia per conto di mia madre costretta a letto punto ma ci trovammo di fronte a una. Crisi imprevista punto i risparmi di famiglia che mia madre aveva lentamente accumulato erano completamente spariti punto l'unica altra persona che conosceva il pin del conto era mio padre. Sembrava chiaro che papà avesse prelevato il denaro. Eravamo sconvolti. Proprio quando vedevamo un barlume di speranza, le azioni di papà ci rubavano ancora una volta il futuro punto anche se volevamo recuperare il denaro. Papà era scomparso con la sua amante e non sapevamo come contattarlo. Abbiamo sporto denuncia alla polizia, ma non si sapeva dove fosse. Cosa avremmo dovuto fare? Tutti si stavano scervellando quando un uomo contattò mia madre. Sosteneva di essere un suo conoscente. Aveva avuto un grave incidente ed era stato ricoverato nell'ospedale dove la mamma lavorava come infermiera punto si era trattato di un grave incidente e aveva subito notevoli conseguenze. Per un certo periodo era diventato profondamente depresso. In mezzo a tutto questo, un uomo è riuscito a riprendersi grazie al sincero incoraggiamento di mia madre.Dopo aver ritrovato la speranza di vivere, ha avviato un'attività commerciale. La sua attività è decollata e ha raggiunto il successo sociale. Si è tenuto in contatto con mia madre anche dopo la sua dimissione dall'ospedale, aggiornandola sulla sua vita circa una volta all'anno.Quando ha saputo delle condizioni di mia madre, ha insistito per pagare le sue cure. Siamo rimasti sorpresi. Mia madre si rifiuta, dicendo che le dispiace, ma l'uomo è irremovibile. Sono guarito grazie a Chloe. Voglio ripagare la sua gentilezza. Ha detto punto la mamma rifiutò ostinatamente, ma l'uomo insistette dicendo, se è così, invece di dare solo i soldi per le cure, c'è qualcosa che vorrei che faceste. Sentendo la sua richiesta, la mamma esitò punto si chiedeva se fosse in grado di farlo, ma lui le assicurò, puoi farlo. Così la mamma decise di accettare la sua offerta. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno. La mamma, che pensavamo non avesse più alternative, era in grado di ricevere le cure punto non c'era niente di più bello, ma naturalmente non si trattava di una guarigione immediata. Ci volle del tempo per tornare alla sua salute normale. Assumendo molti farmaci e visitando l'ospedale per anni punto alla fine, la mamma si riprese abbastanza da poter condurre di nuovo una vita normale. Eravamo immensamente grati a quell'uomo. In seguito, collaborammo per soddisfare la richiesta dell'uomo. All'improvviso tornai alla realtà, ricordando tutto questo. Dovevo concentrarmi sul mio lavoro. Con questo pensiero? Continuai alacremente il mio lavoro. Dopo aver guidato un gruppo di ospiti, feci una pausa. Questa è una locanda famosa, vero? Sembra più modesta di quanto mi aspettassi, non è vero? Ehi, pensavo che questa fosse una locanda più lussuosa. Beh, forse è preziosa per la gente povera, no? In quel momento apparvero un uomo e una donna spavaldi. Sembravano avere una quarantina d'anni, con diversi bambini che li seguivano. Sembravano una famiglia. Niente di strano. Ma il loro modo rozzo di parlare era piuttosto sgradevole. Iniziai la procedura di check-in, chiedendo all'uomo il suo nome. Omar. Joseph Omar, rispose bruscamente. Appena ho sentito quel nome, ho sentito dei brividi lungo la schiena. Joseph Omar? È il nome di mio padre. L'uomo che ha abbandonato me e mia madre e non ci vede da 17 anni. Non mi sarei mai aspettata una riunione qui. E la donna accanto a lui deve essere la sua amante. Probabilmente è la sua nuova moglie. Si chiama Mirabelle, credo. Il ragazzino imbronciato dietro di loro deve essere il loro figlio. Assomiglia tanto a mio padre. Poi una ragazza con un bambino in braccio. Forse fratelli o sorelle. Una famiglia di 5 persone. Non c'è dubbio. Mio padre è qui in vacanza con la sua nuova famiglia. Non si accorge della mia presenza. Non c'è da sorprendersi. Sono passati 17 anni dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Allora avevo solo 3 anni. Ora sono cresciuta.Papà, appoggiato al bancone, chiede con non curanza. Ehi, quando si mangia? Voglio mangiare subito.Purtroppo abbiamo un orario fisso. Il pasto sarà servito in camera a mezzogiorno.È da sfigati. Non potete fare un'eccezione? Le altre locande di lusso si occupano dei loro ospiti. Sa. Mi dispiace. Oggi abbiamo molti ospiti in gruppo. Quindi non possiamo servire prima.Mirabelle interviene. Che lo candava ara. Bene. Non importa. Scriverò online del servizio scadente. Ci rimettete voi se ignorate i vostri ospiti. Si mise a ridere fragorosamente.Mantenni un sorriso forzato. Sentendomi completamente stufa. Che gente volgare. Immutata dai giorni in cui abbandonò insensibilmente me e mia madre malata da bambini. Consegnai loro la chiave della stanza e sospirai discretamente. Più tardi, mentre lavoravo al computer in ufficio, entrò mia madre. Esitai a dirle di papà. Ma era inutile nasconderlo.Mamma, in realtà, papà è venuto prima con la sua nuova famiglia.Cosa? Sembrava sorpresa.Le raccontai brevemente dell'incontro. Allora, è sempre lo stesso. Vado a salutare la famiglia di papà nella loro stanza, ma tu non devi venire, mamma. Non vuoi vederlo, vero? Dopo un attimo, lei disse con fermezza, no, vengo anch'io.è, ma non c'è problema. Sto bene.La mamma aveva un'espressione determinata, come se avesse un piano. Insieme andammo a salutare mio padre e la sua famiglia nella loro stanza.Scusateci. Dissi aprendo la porta.Papà e la sua famiglia stavano già bevendo birra. Completamente ubriachi.Siete in ritardo. Portate subito il cibo.Urlò immediatamente.Io ero poi mia madre poté essere curata e si riprese con successo. Dopodiché, la mamma decise di iniziare un'attività qui dentro. Naturalmente, all'inizio fu una serie di difficoltà. Abbiamo iniziato come una piccola pensione, con difficoltà di gestione.Dopo molti sforzi, alla fine siamo riusciti a trasformarla in una struttura rispettabile. È molto apprezzata e popolare, spesso presente nei media. Durante l'alta stagione, la gente viene da lontano. Vivevamo una vita impegnata, ma appagante.La mamma ha dichiarato con orgoglio, questa è la mia nuova famiglia. Mia figlia Anna, dirigente, e, ehi, vieni qui. Chiamò un uomo in abiti da lavoro che camminava lungo il corridoio. Mi hai chiamato, Chloe? Questo è Ken, il nostro vicepresidente esecutivo.Ken è il marito di Anna. Piacere di conoscerla. Ken salutò mio padre, leggermente confuso. Avevo sposato Ken da poco. Lui ha tre anni in più, 23 anni. Era uno studente di economia. Colpito dalla storia di mamma su un giornale locale. Stava facendo una ricerca sulla gestione delle piccole e medie imprese e venne a intervistarci a Petita Bergs. Dopo la laurea, ha deciso di lavorare qui. Le sue efficaci strategie di gestione hanno reso Petita Bergs ancora più famosa.Ken, con il suo lavoro serio e la sua personalità genuina, ha conquistato il personale. Naturalmente, io ero una di loro. Gli confessai i miei sentimenti e Ken mi ricambiò. Ci siamo fidanzati e recentemente sposati.Papà e la sua famiglia erano senza parole, a bocca aperta. Aveva senso. Ci avevano preso in giro perché eravamo poveri, senza immaginare che eravamo i proprietari. Alla fine le mani di papà, che tenevano una lattina di birra, cominciarono a tremare. Forse sopraffatte dal rammarico.Papà cercò di replicare, lanciandoci un'occhiata. Ma sembrava perso di parole. Ehi, perché siete in silenzio? Joseph. Lo incalzò Mirabelle. Ma papà, forse ormai sobrio, rimase in silenzio. Sono felice quanto voi. Ha una famiglia meravigliosa e una casa orgogliosa, con ospiti sempre graditi. In confronto a questo, concedersi dei lussi sembra una banale distrazione. Disse la mamma con un sorriso pieno. Mirabelle poté solo digrignare i denti in risposta.Ho seguito l'esempio della mamma. Ho sorriso con sicurezza e le ho detto, si goda il suo soggiorno.Tornati in ufficio. La mamma disse con nonchalance, bisogna essere diretti con persone come loro o si lasceranno trasportare. È vero. Annui. Ma erano più di quanto immaginassimo. Quella sera, altri ospiti cominciarono a lamentarsi.A quanto pare, era scoppiata una rissa tra due uomini nel corridoio. Harry, il figlio di mio padre, stava litigando con un altro ospite maschio nel corridoio. Sembrava che Harry, impegnato con il suo telefono, avesse urtato l'ospite.E invece di scusarsi, ha iniziato a litigare. Ken intervenne appena in tempo per evitare che la situazione degenerasse. Ma non è finita lì. Mary, la moglie di Harry, ha lasciato i pannolini del bambino in giro. Questo portò ad altre lamentele.Hanno persino cercato di portare via il cibo dal buffet in contenitori, ignorando i nostri avvertimenti. È stato incredibile. Una tale mancanza di buonsenso.E anche al calar della sera, la loro routine non mostrava segni di cedimento. E di notte non si placavano, tenendo svegli gli ospiti vicini con il loro rumore. Che razza di persone erano? Non avevamo scelta. Abbiamo preso una decisione.Decidemmo di cancellare il loro soggiorno dal giorno successivo. Erano ospiti, ma questo non significava che potessero fare quello che volevano. Avevamo l'obbligo di proteggere gli altri ospiti.Ken disse, vado a dirglielo. Potrebbe causare problemi se lo dice una donna, quindi me ne occupo io. Ma nemmeno Ken ci riuscì.Ken mi sussurrò a bassa voce, mi dispiace, non mi ascolteranno. Insistono per parlare con il direttore e fanno storie.Mamma non era ancora arrivata al lavoro. Non avevo altra scelta che occuparmene. Mi scuso, ma abbiamo anche il diritto di proteggere gli altri ospiti. Potreste andarvene, per favore? Dissi il più educatamente possibile, ma era chiaro che non erano convinti.Papà e Mirabel bisbigliavano tra loro. Poi, all'improvviso, scoppiarono a sorridere. Avevo un brutto presentimento. Se insistete, ce ne andremo. Ma in cambio, rendete il nostro soggiorno gratuito.Cosa? Sì, come no. Abbiamo intenzione di restare una settimana, ma lei ci butta fuori dopo una sola notte per motivi suoi. E volete ancora farci pagare? Dovremmo chiedere un risarcimento. Rimasi svalordito dalla sua affermazione oltraggiosa.Mirabel gli diede subito ragione. Esattamente. Voi siete i proprietari, ma alla fine si tratta di un'attività basata sui clienti. Il cliente ha sempre ragione, no? Se non vi adeguerete, diffonderemo su internet quanto sia terribile questo peccato punto giusto. Harry, Mirabel si girò verso Harry Harry, estraendo compiaciuto il suo smartphone, disse. Esatto. Mamma. Lo registrerò e lo diffonderò in giro. La peggiore locanda che ignora le richieste dei suoi ospiti. Harry iniziò a filmare il ricevimento e le nostre facce senza permesso.Ehi, smettila. Potrebbe rovinare la nostra attività. Sono andata nel panico. Proprio in quel momento arrivò la mamma e urlò mentre si avvicinava al bancone. Anna, ho chiamato la polizia.Grazie. Mamma. Sembrava che l'unico modo per gestire persone così egoiste fosse questo punto accidenti. Papà disse al cenno della polizia e cercò di fuggire, ma era troppo tardi. Ken e altri dipendenti si precipitarono fuori e trattennero la famiglia di papà punto che cosa state facendo? Lasciatemi andare punto papà urlò mentre era bloccato a terra punto lo guardai con freddezza punto sei spreggevole. Non avrei mai pensato che potessi essere così patetico punto un completo idiota punto non era più un padre per me, nemmeno un ospite punto ho detto quello che pensavo punto cosa hai detto? Anna. A tuo padre? Padre? Non ho mai pensato a te come a un padre punto non sei altro che un mascalzone punto papà borbottò qualcosa in risposta punto presto arrivò la polizia punto scortarono via la famiglia di papà punto mentre se ne andavano, la mamma, che fino a quel momento era rimasta calma, gridò qualcosa punto sono la proprietaria di questa locanda punto non tollererò nessuno che la diffami ingiustamente punto sparite e basta punto la mamma gridò mentre la famiglia di papà, con le facce amareggiate, veniva spinta nell'auto della polizia e portata via punto mamma, che? Rumore punto non sapevo che potessi alzare la voce in quel modo punto la mamma rispose con calma punto ma certo punto non potevo rimanere in silenzio dopo essere stata insultata in quel modo punto e poi tornò alla sua solita espressione serena punto è proprio come Chloe. Come mi diceva sempre il nonno punto osservò Ken con disinvoltura punto qualcosa mi colpì punto aspetta. Nonno punto Ken sembrò fare un passo falso punto ma si ricompose subito e iniziò a spiegare punto in realtà, molto tempo fa, quando mio nonno fu ricoverato in ospedale. Lei lo aiutò punto così sono cresciuto sentendo parlare di lei punto lui diceva sempre che era una persona incredibile che gli dava speranza punto per questo sono sempre stata curiosa e per questo sono andata da Petita Bergs per un'intervista quando ero una studentessa punto aspetta. Tuo nonno è punto Ken ha poi fatto il nome di suo nonno punto punto non c'è dubbio punto era il nome del benefattore che aveva pagato le cure della mamma punto non è possibile punto perché non ce l'hai detto. La mamma era visibilmente scossa punto Ken rispose lentamente punto a mio. Nonno non piaceva imporre la sua gentilezza agli altri punto diceva sempre di non parlarne molto punto così è stato punto il benefattore era il nonno di Ken punto non riuscì a nascondere. La mia sorpresa punto la stessa persona salvata dalla dedizione di mamma anni prima punto era uno strano scherzo del destino e il modo in cui funzionano i legami tra le persone punto lo immaginavo punto in seguito papà e la sua famiglia furono rapidamente arrestati punto avevano cercato di truffare anche gli altri ospiti chiedendo sconti sui loro soggiorni punto la polizia li aveva segnalati come individui sospetti punto inoltre c'erano anche altre accuse contro di lui punto sorprendentemente il padre aveva sottratto denaro alla sua azienda per poi fuggire punto avevano l'abitudine di spendere in modo dispendioso punto amavano indossare oggetti di marca e di lusso punto sembrava che ciò derivasse dall'influenza di Mirabelle punto probabilmente è stata una sua idea quella di appropriarsi dei risparmi della nostra famiglia per soddisfare le sue richieste papà si appropriava dei fondi dell'azienda era l'unico responsabile della contabilità ed era riuscito a nasconderlo fino a poco tempo fa punto ma di recente sono iniziati i controlli in azienda temendo che le indagini lo raggiungessero il papà si è rapidamente dimesso dall'azienda ed è uscito di casa con la famiglia il loro viaggio era una vera e propria bugia punto si erano spostati da un posto all'altro eludendo le spese di vitto e alloggio papà era stato citato in giudizio dalla sua precedente società de ins e dai ristoranti in cui avevano soggiornato punto naturalmente poiché anche Mirabelle Harry e Mary avevano partecipato allo scrocco furono arrestati anche loro la famiglia di papà finì insieme dietro le sbarre tranne il piccolo Sam che a quanto pare fu lasciato ai genitori di Mirabelle punto la famiglia è stata fatta a pezzi ma per colpa loro è una fine pietosa per persone annegate nell'avidità ora hanno tutto il tempo di riflettere sui loro crimini dietro a fredde sbarre di ferro punto sono passati mesi da allora vivo le mie giornate come al solito beh con un cambiamento dovresti salire adesso io mi occuperò del resto del lavoro non esagerare non fa bene alla salute dice Ken con un sorriso gentile punto annuisco con un cenno di assenso sono incinta presto diventerò nonna il tempo vola mamma dice ridendo l'anno prossimo sarò madre anch'io per me è ancora irreale ma sono determinata su una cosa punto non permetterò a mio figlio di vivere le difficoltà che ho affrontato io non permetterò loro di provare un simile dolore un tempo invidiavo le famiglie che andavano d'accordo un padre gentile che mi viziasse o che a volte fosse un po' ribelle io ero sognata così punto ma nella mia realtà c'era solo un padre così se è così lo rifiuto incontrare di nuovo papà mi ha fatto capire che le persone non cambiano così facilmente alcuni legami è meglio tagliarli ora papà è completamente scomparso dalla mia vita punto non soffro più nel vedere famiglie felici ora ho la mia famiglia mamma ken è il nostro bambino che sta per nascere li custodirò e continuerò a vivere nella nostra preziosa casa i tita barts